Buonasera e bentrovati in una nuova puntata di Special Rugby. Siamo qua in diretta dal Campo Mov Stadium della Promotica Centurioni e iniziamo subito con un tributo alle ragazze della Nazionale Italiana di Rugby che sono uscite ai quarti di finale contro la Francia, però appunto onore alle nostre ragazze che hanno raggiunto un risultato fantastico. Sono tornate la scorsa sera e gli auguriamo buon riposo perché comunque sarà stato un viaggio sicuramente impegnativo dalla Nuova Zelanda. Nel nostro piccolo però abbiamo qua con noi ovviamente la nostra Isha che non so se lo sapete gioca. Questa domenica ha fatto una performance molto molto bella, lei e le Lilium hanno vinto e abbiamo qua con noi la nostra Woman of the Match. Eh sì allora, insomma domenica abbiamo sì giocato, abbiamo giocato contro Amatori Milano è stata una partita che comunque all'inizio temevamo un sacco eh però comunque siamo entrati in campo con molta voglia di giocare, molta grinta e io sono molto onorata sia di aver giocato, di giocare con questa squadra perché ogni giorno miglioriamo sempre di più abbiamo fatto una bella partita, ha giocato molto bene ha messo in campo tutto quello che ci è stato insegnato da quando abbiamo iniziato e sono anche molto onorata di come ho giocato io soprattutto per la nomina che mi è stata data perché non me l'aspettavo e quindi sono molto molto felice di come abbiamo giocato e di aver portato a casa questa vittoria, speriamo anche le prossime. E so anche che nella puntata di Martedì a Tutto Rugby avete già visto un'idea che si sono fatte anche le mie compagne di squadra Natasha e Arianna che saluto e direi che adesso è il momento di iniziare la vera puntata andando con la puntata di Tutto Rugby con il rugby di base, direi che andiamo a vedere andiamo a vedere il derby tra Franciacorta e Botticino Grazie a tutti! Grazie a tutti! È stata una vittoria sofferta però abbiamo giocato bene e comunque vincere un derby è sempre molto orgoglioso Grazie! Siamo qui con Roberto, qual è la tua opinione su questa partita? Sicuramente diverse opinioni, diversi aspetti analizziamo per tutto la vittoria, è importante ringraziare i ragazzi che comunque ha portato a casa la vittoria, quattro punti abbiamo lavorato in settimana su parecchi aspetti del Botticino che è la nostra versata di giornata penso che posso essere molto soddisfatto della difesa da Tuch e della difesa nel gioco generale dove abbiamo messo in difficoltà gli attacchi del Botticino sono sicuramente meno felice della mole di lavoro creato e concretizzata con pochissimi punti penso che potevamo fare molte più mercature potevamo fare molto più punti al piede potevamo fare molto più ritmo al gioco e questo in settimana pensavo fosse stata la chiave per vincere una partita più agevolmente faccio i meriti anche a Botticino che ce l'ha messo in difficoltà e i derby, tutti quelli che ho giocato per adesso da giocatore, da allenatore non sono mai partite belle questo l'ha dimostrato l'importante è aver portato a casa la vittoria appunto un grosso rammarico questo punto lasciato in campo con diverse occasioni di mete nei loro 22 non concretizzate appunto prendiamo i lati positivi e andiamo avanti fiducioso della prossima partita è comunque stata una bella giornata del rugby? assolutamente sì quando vedi gli spalti pieni la gente che beve le birre e si diverte guardando questo rugby comunque sta piacevole la mattina non so se posso dire i numeri corretti ci sono stati 150 bambini nella provincia tra Botticino, Franciacorta e altri club vicini a sfidarsi e a giocare in questo sport che stanno iniziando e dopo tanti di loro con i genitori sono fermati per creare questa bellissima cornice di pubblico che c'è stata durante la partita ripeto benvenga la giornata così bravi a organizzare questi eventi che riempiono gli stadi e comunque ci tengono a far respirare a tutti quello che è lo spirito del rugby e colori riempiono Come non parlare anche con il mediano d'apertura e anche coach, cosa ci racconti di questa partita? È stata una partita tesa, combattuta, come che deve essere un derby. Tante situazioni in cui avremmo potuto gestire meglio la partita, però come si sa un derby tante volte si gioca con cuore e poca testa, quindi abbiamo provato a casa, abbiamo vinto tante cose su cui lavorare, tante cose su cui migliorare, però abbiamo vinto e siamo contenti ora al momento di festeggiare. E anche questo bellissimo pubblico abbiamo notato che tra di esso c'erano dei tuoi familiari. Assolutamente sì, c'è la mia famiglia che vive a Lecco, mio fratellino è un giocatore del rugby viadana e quindi quando io posso vado a vedere lui, quando lui può viene a vedere a me, siamo una figlia di rugby e noi la domenica è sul campo del rugby, quindi benvenga, grazie al pubblico che è venuto oggi, numeroso, bello, grazie ai bambini, grazie ai genitori che sono venuti, è questo l'ambiente in cui noi possiamo crescere, il rugby cresce, la società cresce, quindi grazie a tutti e vi aspettiamo numerosi anche domenica prossima. Continuiamo con le nostre interviste, adesso siamo qui con Cristian, qual è la tua opinione su questa partita? Allora è stata una partita abbastanza spezzettata, combattuta e hanno vinto meritatamente Franciacorta, sicuramente potevamo far di più, soprattutto secondo me nei minuti iniziali, però comunque ce la siamo giocata dai. Cristian raccontaci un po' di te, un po' della tua vita. Io ho iniziato a giocare a rugby due anni fa, poi c'è stato il covid, ho fatto l'anno scorso nell'Under-19, sempre a Botticino, ho giocato non molte partite, giocavo da terza linea e poi ho cambiato ruolo quest'anno e sono secondo. Quali sono le tue aspettative su questo campionato? Sicuramente essendo appena promossi l'obiettivo sarà comunque di salvarci e comunque rimanere lì in metà classifica e comunque di giocarcela con tutte le squadre perché sappiamo quali sono i nostri mezzi e siamo consapevoli comunque di poter far bene. A chi dedichi questa partita? La dedico ai miei amici, alla mia famiglia soprattutto, che mi sostiene sempre e insomma comunque tutto il Botticino Rugby che è una grande famiglia. Siamo qui con Ivan adesso, qual è l'opinione su questa partita? Beh secondo me è stata una partita molto dura, una partita molto nervosa, molto sentita da noi del Botticino ma anche dal Franciacorta perché per noi è un derby e ci sono stati molti errori durante le fasi di gioco e a noi è andata peggio che purtroppo nel Franciacorta. Comunque sia non vedo tutto nero diciamo, secondo me possiamo fare molto meglio e secondo me la prossima partita sarà la partita della svolta. Possiamo dire onore ai vincitori quindi? Sì per questa volta onore ai vincitori, ci rivediamo in casa nostra e lì sarà la prossima battaglia e vediamo chi vince. Quindi ci sarà un proseguo in salita? Sì, noi stiamo lavorando al meglio, speriamo di fare tutte le prossime partite salendo di livello e ringrazio tutto il pubblico che è venuto a vederci, ringrazio tutti i ragazzi del Botticino Rugby e ringrazio la mia società che ci sostiene molto quando giochiamo. È stato un bel combattimento in mischia? È stata una lotta dura all'inizio, poi siamo riusciti a prendere le misure e l'abbiamo portata a casa bene, siamo riusciti a arginare la loro forza perché poi giocando siamo andati bene, siamo migliorati parecchio. Quindi che campionato ti aspetti quest'anno? Come abbiamo visto dalle prime tre partite ci aspettiamo un campionato dove fino all'ultimo bisogna lottare per portare a casa il risultato, soprattutto fuori casa, cercheremo di fare il nostro meglio ancora in casa e migliorare dove manchiamo partita per partita. Ho visto un bellissimo pubblico e molto anche caloroso. È un gran pubblico per una partita di Serie B, c'erano tifosi loro e tifosi nostri che saluto e complimenti a un gran pubblico così e per una partita di Serie B fa bene al rugby bresciano. Moro, qual è la tua opinione su questa partita? Allora, la mia opinione su questa partita può essere solo che positiva. Sicuramente abbiamo affrontato una squadra più esperta di noi della categoria, con giocatori molto più esperti e per noi giocare in trasferta è sempre difficile. Abbiamo una squadra molto giovane che si deve ancora un po' capire che il rugby non è più quello di vent'anni fa. Ora anche in Serie B c'è gente super preparata, gente super appassionata. ad un certo punto pensavo la partita potesse essere peggio di quello che è il risultato però va bene così, fa bene i ragazzi, è una bella esperienza, un bellissimo ambiente qua e ci può solo che far crescere questo. E adesso come continuerete il vostro lavoro? Adesso già pensiamo alla partita di domenica prossima contro la Castellana. Per noi quest'anno il campionato sarà più complicato di quello che i giocatori, i ragazzi si potessero aspettare per il semplice fatto che pochi di loro hanno vissuto questa categoria. Ho detto a loro di essere molto fiduciosi, di non mollare mai e costruiremo la nostra salvezza in casa, giocando in casa, fuori casa, tutto quello che prenderemo sarà di guadagnato. Tornando alla partita che sensazione ti ha fatto rivedere il Citta? Beh sicuramente penso che per un giocatore di rugby soprattutto in prima linea poter affrontare il Citta anche se Serie B. Un giocatore che ha giocato 42 partite per l'Italia, ha giocato a Londra con il Wasp, a Parigi con lo Stade, a Calvisano, penso che sia un'opportunità incredibile, è una cosa che ti può capitare una o due volte nella vita e sono contento per i ragazzi che l'hanno affrontato e spero che abbiano appreso qualcosa da lui, è sempre bello. Certo io ho la sua età e non l'avrei mai fatto, però lui è così, è Citta. E continuando nell'ambito della Serie B i nostri amici bresciani purtroppo hanno avuto una sconfitta in terra Veneta. Il primo tempo sembrava molto verso una vittoria ma purtroppo sono stati sconfitti e ovviamente adesso sono qua da sola perché è il momento delle nostre interviste singole ad alcuni dei nostri giocatori della prima squadra di Centurioni. Andiamo subito a vedere la nostra Ilaria, chi è andata a raccattare. Grazie mille Aiscio, ogni volta mi passi la palla in modo egregio. Stasera, giusto che appunto siamo qui al Promatica Centurioni, al Mav Stadium, come sempre andiamo a rubare alcuni dei giocatori della prima squadra. La sono Marco Bonanni, gioco talonatore, sono cresciuto reggisticamente nel Florenza Rugby, ho iniziato a giocare all'età di nove anni, poi dopo ho intrapreso il percorso accademico e uscito dall'accademia sono andato a Mogliano dopo passato gli ultimi tre anni e adesso sono passato a Centurioni. Allora tu sei nuovo qua dei Centurioni, un bilancio fino ad ora della stagione che è stata? Allora, fino adesso stiamo crescendo piano piano, comunque è una squadra con molti componenti nuovi, però fino adesso non ci possiamo lamentare e sicuramente per il futuro cerchiamo ancora meglio. Noi sappiamo che tu non eri presente alla scorsa partita contro il Prorecco, però come sono andati i tuoi compagni secondo te? Allora, ho visto la partita e sui punti di incontro e fasi statiche è molto buono, ci siamo dati un po' la zappa sui piedi da solo quando entravamo nei 22, abbiamo sciubato qualche occasione, però tutto sommato cinque punti fa sempre comodo. Invece per quanto riguarda, vabbè adesso abbiamo appunto un po' di stop, quindi avrai anche tempo di riposare, ma per la prossima partita qua in casa che aspettative hai? Sicuramente di riscattarci perché abbiamo incontrato Parma nel prestagione, non abbiamo fatto una partita buona, perciò sicuramente riscattarci per la partita fatta in preciso. Gli salutiamo? Salutiamo i genitori a Firenze, la fidanzata e soprattutto un saluto a Andrea Pelani, nonché coinquilino e amico. Ecco il mio amico Clerici, hola amico, guarda chi c'è anche, girati, testa di mischia, giratevi, bravi. Un saluto alle amici di Oltremela. E ora continuiamo con la nostra intervista di Rito, sempre in chiave Centurioni andiamo a intervistare, anzi Aisha andrà a intervistare, una personalità importante a livello Centurioni, il direttore generale Ivano Bonaccina. E grazie mille Ilaria, ora tocca a me, sono qua con Ivano Bonaccina, che fino all'anno scorso per chi non lo sapesse era allenatore in campo, quest'anno un surplus è diventato direttore sportivo. Un piccolo bilancio della stagione, come sta andando fino ad ora? Bene, nel senso che da come siamo partiti ad agosto, luglio-agosto, le cose stanno andando nel verso giusto, stiamo prendendo la strada giusta con tutte le categorie. Il campo è sempre più vivo, partendo dai piccoli, stanno aumentando i numeri, c'è molto divertimento, molto interesse, molta voglia di fare. Con le categorie va benissimo questo tutoraggio con l'Oltremella, che sta ottenendo dei buoni risultati. Siamo anche uno dei riferimenti del Polo Bresciano, che è una cosa molto interessante per tutti i club bresciani. Questo è un altro argomento, un altro contenuto con cui teniamo molto. Poi abbiamo la cadetta, abbiamo l'Andia 19-17. La 19 finalmente inizierà il campionato la settimana prossima, diciamo con un turno di riposo, però inizieremo il 13 con la prima partita in casa. e finalmente, perché per 19 anni, hanno dovuto aspettare due mesi di allenamenti prima di iniziare. Siamo al dunque. Come prima squadra la cadetta sta facendo il suo percorso con delle difficoltà oggettive, come sempre le squadre, con dei tennici nuovi. La prima squadra. Allora dopo la partenza sbagliata, diciamo inaspettato come risultato a Parabiago, con un forte Parabiago che tuttora è in testa della classifica, ci siamo ripresi, i giocatori hanno cominciato a trovare un equilibrio come squadra, anche i due allenatori, trovare un po' più di feeling. E la cosa importante, che secondo me è vitale, sono le ragazze allenate da Alessandro Pinna, che sono facendo un percorso eccellente, con due vittorie continue. E questo è tutto frutto di un lavoro dove inizialmente Mari Qualcuno era un po' scettico sull'efficacia di questo tutoraggio con le ragazze di Rovato, poi invece i risultati, specialmente quello di domenica in casa, è stato eccellente, per cui complimenti a tutto lo staff, alle ragazze e complimenti a tutti, perché comunque siamo qua, perché la dirigenza ci permette di stare qua e dobbiamo solo fare meglio con le prossime giornate. Allora, dopo questo weekend di stop, domenica prossima, c'è un'altra partita in casa della nostra prima squadra, ovviamente contro il Parma, una squadra che comunque hanno già incontrato innamichevole. Aspettative? Beh, la squadra di Marcello Frati, che è il nostro giocatore, un ragazzo che è cresciuto qua, Marci per tutti, è un ragazzo molto simpatico, un talento, sicuramente sarà rivale con noi. E Parma sarà una bella partita, un bel test per noi, perché dopo la partita, diciamo, non leggera, perché la trasferta a Genova contro la Prorecca è una trasferta impegnativa, però la squadra di Parma sarà una squadra con un altro spessore, per cui sarà un test importante per noi. Ricordo che anche domenica 6 novembre abbiamo la partita dalla Cadetta, alle 14.30 qui, contro la squadra di Phoenix di Vertello, che è una partita in casa dove la squadra sicuramente entrerà in campo per fare il meglio possibile. Approfitto anche per fare un invito al pubblico, visto che ci siamo attrezzati con un barbecue su in tribuna, dove si può bere della birra, delle salamelle e patatine, gentilmente gestito dai nostri consiglieri, che sono una forza incredibile, e il pubblico è sempre più numeroso, perché comunque ricordiamoci che una partita di rugby è una festa. Completiamo il discorso della Serie A, però cambiando girone, andiamo in quello del Verona e andiamo a vedere. Andiamo a sentire l'intervista dell'allenatore del Verona, poiché in trasferta hanno avuto una vittoria. Coach Hansel, una vittoria convincente, la prima in trasferta, prima della pausa, come hai visto i ragazzi? Un'ottima prestazione, ragazzi concentrati dall'inizio, la disciplina era buona, il livello fisico era ottimo, e quindi hanno fatto tutto quello che abbiamo chiesto, e adesso abbiamo una pausa meritata. Un primo tempo più muscolare, mentre nel secondo Verona ha dilagato, si sono sbloccati i ragazzi, e adesso dove possono arrivare? Diciamo che sì, nel primo tempo abbiamo fatto tutto il gioco noi, Badia ovviamente è ostica, in casa hanno difeso bene, però abbiamo visto al fine del primo tempo che non avevano più gambe, perché è impossibile difendere per tanti minuti, quindi noi abbiamo mantenuto il ritmo, mantenuto il gioco, e poi ovviamente i buchi con le gambe stanche cominciano ad aprire. I cambi arrivati a un quarto d'ora dentro il secondo tempo hanno fatto vedere che la panchina del Verona è lunghissima e di altissima qualità. Eh, giusto, ma noi abbiamo sempre detto che abbiamo una rosa, non siamo i 15, abbiamo tutti quelli che sono rimasti in piedi che fanno parte delle rose, quindi ognuno ha il suo ruolo, hanno fatto un bel lavoro quando sono entrati oggi, sicuramente servivano anche con il caldo che c'era in campo. La prossima, dopo la pausa, Val Sugana, parti alte della classifica, può servire a dare uno scossone al nostro campionato, la svolta? Guarda, sicuramente non... tutte le partite sono importanti, un'altra partita fuori casa per noi, a Padua, quindi prendiamo partita per partita, noi andiamo là con la voglia di vincere, quindi spero di recuperare qualcuno con queste settimane di pausa, e sì, ci spero una partita tosta. Continuiamo la nostra puntata con un appuntamento ormai ricorrente, ovvero quello dell'URC. Alla prossima, l'unico Grazie a tutti. Le nostre franchigie purtroppo hanno avuto un weekend abbastanza negativo. Beh sì, soprattutto per il Benetton che non ha avuto una pessima sconfitta. Infatti andiamo subito a sentire il nostro amico Dan Pat che non l'ha presa molto bene. Voi sapete che io cerco di essere sempre il più equilibrato e meno estremo nei giudizi, tranciante nei giudizi possibile, però scusate se lo dico, non voglio fare il pallonaro, non voglio fare lo youtuber calcistico. Se ricordate avrei potuto farlo molto di più a livello di impatto mediatico dopo la sconfitta dell'Italia con la Georgia. Non sono mai stato così estremo, però la partita che ho visto oggi è stata la partita peggiore da quando ho aperto il canale, probabilmente di qualsiasi squadra, sicuramente della squadra per cui faccio il tifo, il Benetton Treviso. Che schifo, veramente che schifo. Cioè Treviso, al di là del risultato, che adesso non ricordo nemmeno qual essere, però credo che Treviso ha preso una quarantina di punti. Adesso lo dico se per caso qualcuno non avesse visto la partita, però veramente, veramente una cosa imbarazzante. Fatemi usare, 37-0. Ma al di là del risultato, 37-0, perché ci sono state sconfitte anche più pesanti dal punto di vista del punteggio, ma meno imbarazzanti, Treviso è stata... Allora, innanzitutto mettiamo un attimo come sempre in contesto. Treviso andava con una squadra decente, recuperando un sacco di giocatori infortunati, decente dal punto di vista dei nomi. Non diciamo che c'era il raduno della nazionale, quindi Treviso non poteva mettere i suoi migliori, perché nemmeno Glesgo lo poteva fare. Nemmeno Glesgo lo poteva fare. Glesgo aveva in campo dei ragazzi di 19 anni, mischiati a dei signori che ormai vanno verso la fine della carriera. Certo, ovviamente anche loro avevano dei talenti, però anche noi. Cioè, avevamo... Prima ho riletto la formazione, avevamo Gallo, titolare della nazionale argentina, avevamo Teta Ciapparo, avevamo Scrafton e Wegner. Scrafton e Wegner, dall'altra parte avevano un tizio, Sintu Maniegi, che sembrava Mauro Itoge oggi, questo qua non ha mai giocato in nazionale in vita sua, e l'altro era un ragazzo di 19 anni, giusto per capirci. Avevamo Pettinelli e Negri in terza linea, avevamo il Capitano, avevamo Duvenage, avevamo Dare, che si pensa essere una potenziale apertura della nazionale italiana. Insomma, in mezzo al campo avevamo Rino Smith, avevamo Mendy, che tanto ci aveva rubato l'occhio a inizio campionato. Non è che andavamo lì con un paperino Pluto e qui, qui o qua. Insomma, se tu prendi l'individualità uno a uno e ti metti a fare il valore dei singoli, probabilmente Treviso esce addirittura meglio rispetto a chi metteva in campo Glasgow. Perché Glasgow fondamentalmente non metteva in campo nessun internazionale. nessun internazionale e probabilmente l'unico giocatore di livello anche passato internazionale era Rian Wilson, poi c'era Jamie Dobby e si è fatto vedere il tongano Sielone-Vailano che è arrivato l'altro ieri. Cioè, non è che Treviso andasse in campo a giocare contro i Crusaders o contro il Leinster. Ecco, capiamoci. Giocava con le seconde scelte del Glasgow che tornavano da un tour sud-africano, che già è difficile per conto suo, dove non era andato l'allenatore, dove avevano avuto un'epidemia intestinale che aveva comunque debilitato tutta la squadra. Insomma, una situazione dove quantomeno devi andartela a giocare, quantomeno devi andartela a giocare, Treviso che non ha fatto vedere niente, niente, niente. E ora vogliamo portarvi un contributo che abbiamo deciso di produrre io e Aisha. Un contributo molto interessante perché ci siamo messe a cercare dei video su YouTube per spingere, diciamo, tutte le persone fuori dal mondo del Rebby o comunque non ne sanno molto a, diciamo, 360 gradi, poter conoscere questo sport che purtroppo in Italia non viene molto considerato e questo purtroppo a noi dispiace. Sono, come dicevano, Tommaso Ebert. Ho 47 anni e ho qui davanti due figli particolarmente, meravigliosamente intensi e una moglie che provo a conquistare dal 1984 alla quarta elementare a Fontane di Villa Orba. Non ci sono ancora riuscito del tutto, insomma. Forse avete sentito il mio nome, lo diceva lo speaker su qualche articolo, in qualche articolo di Economia e di Finanze. Infatti, per me si era e mi occupo della redazione di Bloomberg News a Milano o magari avete letto uno dei due libri che ho dedicato a due persone straordinarie, Sergio Marchionne e Leonardo Del Vecchio. Magari qualcuno di voi questa sera è venuto a teatro pensando che io venissi qui a raccontarvi qualcosa di più di queste due persone che sono riuscite a fare la differenza. Mi dispiace, non sono qui per quello oggi, anzi, nel caso chiedo agli organizzatori che chi si lamenterà, insomma, provvederanno a rimborsarvi il biglietto. Perché io oggi sono venuto a fare un'altra cosa. Qui oggi sono venuto a parlarvi di passione, di una grande passione. Perché sono convinto che questo racconto, in questi prossimi minuti, potrebbe arricchire tutti noi e magari potrebbe convincere qualcuno di voi ad abbracciare e ad seguire fin in fondo la propria grande passione. La mia vita, come potete immaginare, come quella di molti di noi, è un incastro continuo. Conference call, chat delle scuole elementari, riunione delle scuole medie, sono anche rappresentante di classe, riunioni di redazione in inglese e poi le breaking news che arrivano quando meno te lo aspetti a sconvolgerti la giornata. Beh, nonostante questo, io cascasse il mondo almeno una sera a settimana quando sta diventando buio, esco di casa furtivamente, tra sguardi che sanno di disapprovazione e commiserazione. E' così, è così. Inforco una bicicletta azzurra attraverso la città fino a un campo spelacchiato di periferia. Arrivo, mi metto i calzettoni, i pantaloncini, la maglietta, le scarpe con i tacchetti, il caschetto, il paradenti, e gioco a rugby a 47 anni. O almeno ci provo. E allora questa sera sono venuto qui a dirvi perché. Provare a dirvi perché lo faccio. Beh, noi lo facciamo semplicemente perché quella è la cosa giusta da fare. Ci ritroviamo così due sere a settimana una trentina di uomini di mezza età, diciamo, non particolarmente in gran forma fisica e anche una ventina di mamme che cercano di imparare e di scoprire il meraviglioso sport che fanno i loro figli e iniziamo a correre attorno al campo agli ordini del nostro allenatore che è un sergente di ferro con le superga stracciate e un cuore d'oro. Dopo che corriamo e facciamo 4-5 giri inizia la parte atletica, quella vera. E facciamo una cosa tremenda che si chiama Tabata. 20 secondi a tutta velocità e poi 10 secondi lenti per 8 volte per 4 minuti. a quel punto si è già abbastanza insomma arrivato e invece inizia la prova epomicidiale si chiama Bronco io non so chi l'ha inventata ma insomma sono degli scatti da 20, 40 e 60 metri da ripetere per 1200 metri e cercare di farlo nel minor tempo possibile io quando sono in forma smagliante ci metto 5 minuti e mezzo a quel punto hai finito e sei morto ti siedi un attimo abbiamo 3 minuti di riposo prendi qualcosa da bere fai finta che sia uno spritz di solito è un Gatorade e ti chiedi veramente perché siamo lì e perché lo facciamo ecco io vi spiego perché lo facciamo noi siamo lì e lo facciamo perché quello è il nostro modo di metterci alla prova di uscire dalla nostra zona di comfort dalla cosiddetta comfort zone e di dare tutto quello che abbiamo perché nel rugby non puoi fingere quando ti arriva di fronte un dermatologo 52enne che pesa 115 kg incavolato nero o lo placchi o vai in meta non ci sono mezze misure quando prendi in mano questa benedetta palla e la cerchi di portare un passo oltre o ce la fai e porti la palla più avanti o ti fermano non ci sono alternative e questo è il rugby è uno sport di estrema verità crudo nudo e vero ed è il motivo per cui io credo che sia giusto farlo anche anche a questa età e poi è uno sport che a me ha insegnato moltissimo prima di tutto ti insegna il rispetto il rispetto di te stesso il rispetto dei tuoi compagni il rispetto dei tuoi avversari e anche il rispetto dell'arbitro perché senza l'arbitro noi non potremmo giocare e poi ti insegna il rugby che la diversità è importante in un 15 ideale c'è posto per tutti quelli grossi grandi grossi e lenti stanno in mischia quelli magri belli e veloci stanno sui tre quarti poi ci sono quelli come me piccoli un po' grossi e lenti che è un po' un casino devono trovare il proprio posto io da giovane lo trovavo in prima linea adesso in terza ogni tanto prendo la maglia numero 9 la rubo vado dritto non passo mai la palla questa è una mia caratteristica però c'è veramente bisogno di tutti come nella società il rugby ti insegna che da soli valiamo veramente poco ma assieme possiamo diventare e fare qualcosa di importante lui insegna dalla sua regola più importante cioè tu a rugby corri con la palla e corri in avanti ma la palla la passi sempre all'indietro ma cosa vuol dire passare la palla all'indietro vuol dire che nel rugby non fai niente senza il sostegno dei tuoi compagni ecco il sostegno è la parola più importante nel nostro sport quando tu corri e vai contro l'avversario e passi la palla all'indietro devi essere sicuro che ci sia qualcuno che sta arrivando con la totale fiducia nel suo compagno per andare a recuperare quel pallone e portarlo un passo più avanti è la stessa cosa per chi arriva da dietro quando tu arrivi da dietro hai una fiducia totale oggi parliamo di fiducia sì la fiducia totale di riuscire ad arrivare ad aiutare il tuo compagno questo ci insegna il rugby e poi e poi crea dei legami in questo sport che è uno sport di battaglia che durano per sempre qualcuno è anche in sala questa sera che ha diviso con me il campo da rugby quando tu hai giocato assieme sullo stesso campo anche se sei stato avversario sullo stesso campo sarai unito per sempre potrai sempre contare su un tuo compagno di squadra a prescindere da quello che sei diventato e che diventerai ed è questo il motivo per cui con un gruppo di compagni e amici abbiamo creato una squadra a Milano di mini rugby si chiama Rugby Parco Sempione dove cerchiamo di tramandare i valori del rugby ai bambini dai due ai dodici anni ma quali sono allora questi valori quali sono le regole di base del nostro sport beh i principi sono molto semplici il primo è avanzare come direbbero i madness one step beyond e poi pressare pressare vuol dire metterci sempre il massimo del tuo impegno poi continuità chi si ferma è perduto e ovviamente sostenere continuità chi si ferma è perduto è uno sport che ti chiede tantissimo e a un certo punto spesso ti ritrovi che non ne hai più a me succede mi trovo in mezzo al campo e dico adesso non ce la faccio più allora mi parte in testa una canzone di Vinicio Caposella che a un certo punto dice se non hai dato tutto non hai dato ancora e allora quando a me parte questa canzone in testa trovo sempre un briciolo di energia di più per provare e continuare a giocare e non fermarmi neanche quella volta neanche se abbiamo quasi 50 anni neanche se quando ho iniziato 30 anni fa con una maglietta rossa in un campo qua vicino mai avrei pensato che a 50 anni invece di andare a bere un aperitivo il giovedì sera vado in bicicletta a giocare a rugby in un campo di periferia ma la verità è che questo sport a me ha dato molto di più di quello che io ho dato al mio sport e poi ci sono due momenti due momenti che per me valgono tutto e sono forse le vere ragioni per cui tutti noi continuiamo a giocare e scendiamo in campo il primo è il momento più bello sta per iniziare la partita c'è il mio compagno in mezzo al campo che sta per calciare il drop c'è un arbitro col fischietto in bocca non ancora fischiato noi della mischia siamo tutti da una parte alziamo il braccio perché quella palla la vogliamo andare a prendere beh in quel momento lì può succedere di tutto in quel momento lì è ancora tutto possibile noi siamo in 15 e loro sono in 15 di solito gli altri 15 sono sempre più grossi più forti più fisicati e più belli hanno anche le maglie più pulite ma questo è un altro discorso io ogni volta ci credo prima che inizi ogni partita io sono convinto che noi quella partita la vinceremo e ci credo sempre a prescindere da tutto è quel momento in cui tutto è veramente possibile ci credo quando gioco io e sono talmente illuso che ci credo ogni volta che giocano anche i ragazzi dei nazionali con la maglia azzurra suona l'inno io mi commuovo ogni volta e ogni volta quando sta per fischiare l'arbitro sono convinto che vinceremo contro chiunque anche contro gli all blacks quella volta che succede è una gran festa succede poco però quella volta che succede è una gran festa perché poi quando inizi a giocare vincere o perdere non è il fine del nostro sport io gioco sempre per vincere non pensate che sia al contrario gioco per vincere anche quando gioco a ruba mazzetto con mio figlio però la verità è che quando giochi a rugby tu giochi per fare la cosa giusta perché al di là di quello che si crede in giro che il rugby sia uno sport per diciamo persone ignoranti che hanno voglia di andare a fare l'autoscontro nel rugby oltre a tutti questi principi prevale il principio di utilità vuol dire che tu in campo debbi fare la cosa giusta al momento giusto solo così sei utile alla tua squadra che ti potrà dare sostegno quando sei da solo uno dei gravi errori che un allenatore non ti vuole mai veder fare è quello di isolarti pensate nel rugby importante sostegno ed è sbagliato isolarti e allora quando tu dai tutto e quando hai dato veramente tutto e l'arbitro fischia la fine sei vinto sei perso forse non è quella la cosa più importante in quel momento lì poi la partita finisce finalmente sta per arrivare il terzo tempo l'arbitro fischia ci troviamo in mezzo al campo ci troviamo in mezzo al campo abbiamo da una parte i vincitori creiamo un corridoio gli sconfitti per ringraziare salutare i vincitori e poi viceversa lo stesso facciamo con l'arbitro e poi arriva l'altro momento che per me è fondamentale e che spiega perché tutto questo ha senso è il momento nostro come sarà il momento nostro questa sera quindi vi chiederò alla fine anche un po' di collaborazione è il momento in cui noi 15 che abbiamo giocato ci mettiamo tutti attorno assieme e formiamo un cerchio lo facciamo prima dell'inizio e alla fine di ogni partita quello è un momento che è solo ed esclusivamente nostro ci abbracciamo e ci guardiamo negli occhi e in quel momento lì nessuno può mentire è un momento di estrema verità siamo tutti assieme sono i 15 che hanno giocato ci sono gli infortunati che non sono entrati ci sono quelli che sono stati in panchina che non hanno giocato ma che sono parte fondamentale nel gruppo e poi come diciamo noi ci sono anche i nostri compagni che hanno passato la palla e magari non ci sono più e ci guardano dall'alto allora ci mettiamo lì ci guardiamo e ci guardiamo negli occhi ecco se vi posso lasciare con un consiglio vi consiglio di farlo anche voi guardatevi negli occhi ma anche va bene anche lo specchio guardatevi negli occhi e dal vostro sguardo cercate di capire se quello è stato un tempo ben speso ecco io ho la mia piccola ricetta che vi vorrei lasciare per me è stato un tempo ben speso se uno hai seguito e hai avuto il coraggio di seguire una tua passione qualunque essa sia senza nessun secondo fine se non proprio quello di seguire la propria passione due se hai dato tutto e sei uscito dalla tua zona di comfort non è mai troppo tardi per giocare a rugby non è mai troppo tardi per provare qualcosa di nuovo dipende solo da noi vivere e non lasciarci vivere terzo se hai capito l'importanza che da soli come individui alla fine valiamo veramente poco noi valiamo solo in quanto parte di una comunità e poi come dicevo se hai dato tutto come diceva anche il buon Vinicio Caposella beh allora secondo me se tu hai risposto a tutte queste domande quando ti sei guardato negli occhi allora sì che siamo una squadra e allora come facciamo noi ci possiamo salutare con quello che è il nostro saluto ogni squadra di rugby ha il suo saluto quando si stringe nel cerchio allora io vi chiedo di fare assieme a me per chiudere questa chiacchierata il nostro saluto reggbistico quello della mia squadra di rugby fa così noi ci chiamiamo i Dragold e il saluto è così adesso però mi raccomando bisogna collaborazione se no lo dobbiamo vedere in un video e non è bello uguale allora io dico i Dragold i Dragold e poi tutti assieme dobbiamo dire cui cui uni e mani gold siete pronti? è importante non mi fate far figuracce in casa treviso per piacere la facciamo siamo pronti la faccio io faccio tutti assieme i Dragold i Dragold cui cui uni e mani gold grazie e mentre i nostri ragazzi dell'under 15 e dell'under 17 si stanno allenando qua al Mav Stadium vi ricordiamo anzi vi presentiamo subito la nostra agenda della settimana con Stefano Del Frate che ci teniamo a ringraziare per essere stato presente con le Lilium questa domenica e ovviamente direi andiamo al time out ringraziamo Aisha e Ilaria per la linea io sono Paola io sono Giulia ci aggreghiamo alle congratulazioni per la squadra Queenlium che ha vinto questa domenica e anche alle ragazze che questa domenica sono arrivate ai quarti di finale siamo qui al time out con Stefano che presenterà l'agenda del weekend grazie Paola grazie Giulia un saluto a Ilaria e Aisha prima di passare all'agenda del weekend mi congratulo con i ragazzi del Rovato e Franciacorta che hanno vinto la prima partita nel Girone Elite in trasferta con la Maturion Milano questa settimana avranno un turno di riposo e riprenderanno la prossima settimana con la seconda partita in casa con il Mogliano per quanto riguarda il weekend weekend internazionale molto ricco inizieremo già alle 4.30 della mattina con la prima semifinale della Coppa del Mondo Femminile la partita sarà tra Canada e Inghilterra alle 7.30 seguirà la seconda semifinale lo scontro tra Francia e Nuova Zelanda Top 10 e URC sono fermi per i test match internazionali quei test match internazionali che saranno visibili su Sky Arena come pure le semifinali della Coppa del Mondo Femminile a partire dalle 14 ci sarà la nostra nazionale Italia che affronterà Samoa in una sfida che dovrebbe essere sulla carta da vincere come abbiamo visto le formazioni l'Italia metterà in campo la miglior formazione possibile e andrà all'assalto delle Samoa per aggiudicarsi questo primo test match a seguire potremo assistere sul nostro Sky Arena alla partita tra Galles e Nuova Zelanda alle ore 16.15 18.30 ci sarà collegamento con Dublino per Irlanda-Sudafrica mentre in serata a Parigi si disputerà Francia-Australia alla domenica verrà proposta la partita che si è giocata in contemporanea con gli azzurri nella mattinata su Sky Arena verrà proposta la differita di Scotia-Figi mentre in diretta alle 15.15 avremo Inghilterra-Argentina dove sarà presente il nostro caccio a tifare la sua Argentina mentre qui noi ce la potremo vedere in tv sempre su Sky Arena sempre in Inghilterra ci sarà la partita dell'Italia 15 la seconda squadra azzurra che giocherà all'Eister con appunto con le Tigers Per quanto riguarda il rugby di base giocheranno la Serie B e la Serie C avremo le tre squadre bresciane impegnate tutte in casa precisamente avremo Botticino ospiterà la capoclassifica Castellana il Brescia ospiterà il San Donà mentre ad ospitaletto il Franciacorta ospiterà il San Marco Venezia Mestre Per quanto riguarda la Serie C avremo parecchi match ma in casa ci saranno solamente le partite della cadetta Centurioni con il Phoenix Verdello della bassa Bresciana con il Casal Maggiore il Fiumi Franciacorta le altre squadre saranno impegnate in trasferta a Cernusco il Valcamonica a Crema il Rugby del Chiese a Velate il Calvisano cadetta e infine la cadetta dell'Ecco ospiterà il Desenzano quindi come abbiamo visto un weekend ricchissimo sia da vedere in tv che da vedere sui campi noi ovviamente vi spingiamo ad andare sui campi a vedere la Nazionale a Padova e poi tutte le altre partite che vi abbiamo ricordato nella nostra provincia quindi Caccio non ci resta che salutare e più che mai ragazzi vive il Rugby vive il Rugby vive il Rugby siamo in chiusura e prima di salutarvi ringraziamo la Promotica Centurioni che ci ospita ogni settimana ma ovviamente vi ricordiamo anche i nostri appuntamenti della settimana ogni martedì sera in seconda serata tutto Rugby il nostro programma di punta e ogni venerdì alle 19.30 sul canale 810 Sky in diretta anche da Well TV mi raccomando vi aspettiamo più che mai come dice sempre Caccio vive il Rugby salutiamo anche la gente il time out a tutta la gente ciao grazie a Manu mi chiamo Matteo Lami e gioco a Rugby tu Alessandro Lami e gioco a Rugby Michele e anche gioco a Rugby quindi viva il time out alessandro Lami e gioco a Rugby a Rugby Scriviti ad a Rugby ad ću ad 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 aguri La mia figlia di Giulia, è aguri, 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 è aguri. Vedi, una buona continuazione, chicas. Vedi qui? Cada vez che contiamo che giochiamo al rugby, la stessa domanda, perché meglio non è altro sport? Lo che non sapevamo, è che viviamo facendolo. La pelleamo contro estereotipos e prejuicios, la remamo per conseguire jugadoras e partidos. E di tantos reveses, saciamo più forza. Quindi non insistiamo, non cambiamo di esporto, ma sicuriamo che molti più amano a questo, come noi. Zurich, protegendo al rugby argentino.